Dall'invasione dei cinghiali all'invasione delle bandiere gialle, quelle sventolate dalla Coldiretti che ha organizzato e promosso la protesta che si è svolta stamani sotto la prefettura di Salerno. Gli agricoltori e i sindaci dei comuni interessati dall'invasione devastante di cinghiali hanno aderito al flash mob città e campagna per dire basta ai danni, basta ai campi devastati, basta agli incidenti. Il cinghiale è un animale carnivoro e onnivoro, quindi noi abbiamo anche paura di andare di notte nei campi perché l'irrigazione la facciamo di notte, se troviamo una madre e quei figli, quelli si attacca e si sbrana. Quali problemi provocano? Quali problemi? Hanno molto danno all'agricoltura. Tanti problemi con i cinghiali? Molti, negli ultimi dieci anni sono diventate una cosa esagerata, ma il problema è il numero perché da decine sono passate a centinaia e centinaia. Un problema non solo del Cilento ma che dopo il fermo della caccia legato al lockdown sta interessando tutta la nazione. Cinghiali vengono avvistati quotidianamente anche nella città di Salerno. La mobilitazione straordinaria si è per questo svolta in contemporanea anche in altri capoluoghi di provincia perché la proliferazione sta mettendo a rischio l'economia ma anche la sicurezza, come hanno ribadito partecipando alla manifestazione diversi sindaci dei comuni interessati dalla problematica. Purtroppo abbiamo una criticità tremenda con tutti questi cinghiali che abbiamo in zona. Un problema anche di sicurezza, sindaco? Esatto, sì. Spuntano da tutte le parti. Distruggono le agricolture e mettono a rischio la sicurezza dei cittadini? Visto che noi viviamo di agricoltura, purtroppo distruggono tutto. Sindaco, città e campagna uniti oggi contro i cinghiali? Assolutamente sì. Il problema non è solo locale ma ormai è diventato di carattere nazionale. Questo è un grido di dolore da parte degli agricoltori in nostre zone. Ma è un grido di dolore anche da parte nostra, dei sindaci che combattono ogni giorno con varie problematiche. Questa si somma nelle varie problematiche che stiamo affrontando oggi. Chiediamo alle istituzioni, alla politica decisioni importanti, decisioni definitive però per quanto riguarda questa emergenza cinghiale. La soluzione sicuramente è quella di allungare comunque il periodo di caccia ai cinghiali. Non so se questo basterebbe, però si potrebbero interessare, dico una cosa così, non tanto a caso ma anche l'esercito. Stanno devastando i fondi agricoli, non ci resta niente. Che si può fare, sindaco? Abbattimento, solo abbattimento riducendo il numero almeno del 70-80%. Nel mio territorio ce ne sono tantissimi, ci sono almeno 500-600 solo nel mio territorio. E il sindaco? Di Altavilla Silentina, quindi siamo nel cuore della Piana del Sele con Persano vicino. Perché là c'è un allevamento naturale, in un bosco dove ci sono 1500 ettari dove non si può entrare. Quindi escono lungo il fiume e invadono i fondi circostanti. Il flash mob è stato accompagnato anche da una mostra fotografica con i danni prodotti dai cinghiali, non solo i campi coltivati ma anche aggressione fisica a persone. Enzo Tropiano, direttore della Coldiretti Salerno, ha consegnato al prefetto di Salerno una proposta di legge che riguarda anche la possibilità che gli agricoltori possano, se in possesso di porto d'arma, intervenire direttamente nell'abbattimento laddove l'invasione riguardi i propri territori. Abbiamo 300.000 cinghiali in provincia di Salerno, quindi ogni tre persone che abitano in provincia di Salerno c'è un cinghiale. È una presenza che deve essere limitata e contenuta con una legge speciale.